Ciao, bentornati di nuovo su Metalurbex, siamo sempre nel posto dove siamo andati prima a vedere i fughi adesso vi faccio vedere l'altra sponda di sto cazzo di fiumiciatolo qua c'è una maglia, non so che cazzo è qua giù c'è un bel porcellame di un televisore a tubo cattodico, due secchi qui c'è un pezzo di ferro che non si sa che cazzo è, contenitore di plastica guardate che cazzo non c'è qua sopra c'è a parte pezzi di mattoni, di calcio e struzzo, di schifezze varie c'è veramente un porcilaio, flaconi di qualsiasi cosa, tovaglie vediamo se mettiamo il flash perché si vede un po' meglio qua per terra, sempre monnezze e schifezze varie, ed è pieno fino sopra sappiate che la gente fa schifo al cazzo, tutta adesso torno in su perché sta piovendo sta venendo buio, sto sudando, non vedo più niente alla prossima, ciao